Assessore regionale Stefano Bruno Galli che da tanti anni lavora la materia dell'autonomia. Adesso un nuovo governo si è insediato, è un governo di centrodestra, la Lega conta, ce la farà? Sì, io sono questa mattina molto ottimista per il semplice fatto che alle regioni c'è il Ministro Calderoli e all'economia delle finanze c'è il Ministro Giorgetti e sono le precondizioni per chiudere la partita rapidamente. Noi i compiti a casa li abbiamo fatti, siamo pronti, si tratta solo di chiudere la nostra partita. La singola materia non può essere trasferita in blocco, dentro ogni materia ci sono delle funzioni di carattere legislativo, amministrativo, regolamentare, programmatorio, sono quelle che possono essere trasferite ma la materia complessivamente no. In termini semplici potrebbe succedere che in base a quella riorganizzazione che lei ci sta illustrando alcune materie possano arrivare con maggior peso decisionale in regione e altre invece mantengano un baricentro più nazionale con qualche componente regionale? Cioè ci potrebbero essere diverse velocità? Ma il senso del regionalismo differenziato è proprio questo. In fondo la pianta amministrativa della penisola prevede l'esistenza di una super provincia come può essere il Molise e di uno Stato nello Stato come può essere la Lombardia. È del tutto evidente, è quasi ovvio, che io non posso dare le stesse competenze al Molise e alla Lombardia perché sono diverse. Cioè il regionalismo differenziato è nella natura delle cose. Lo Stato oggi spende per assolvere una funzione, ci dà le risorse e quella funzione ci penseremo noi come Lombardia. Quindi è a costo zero dal punto di vista economico.